L'emozione è molto grande, per noi non è come esserci già qualificati perché c'è comunque la partita di domani, quindi comunque dobbiamo avere la testa per domani sulla partita di domani, per ora festeggiamo di sicuro questa vittoria che è per noi molto importante. Non c'è da fare meglio su altri rifiuti, possiamo lavorare ancora su dei certi determinati punti di attacco, come difesa, penso che oggi la ricerca sia gestita abbastanza bene, abbiamo gestito l'ansia del primo tempo in cui l'abbiamo finito appunto abbastanza e siamo riusciti a recuperare nel secondo tempo dando il massimo di noi e dando il più grinta possibile, speriamo che domani riusciamo a dare la stessa grinta e di vincere. Credo che abbiamo fatto una buona stagione e l'obgettivo l'abbiamo fatto, abbiamo fatto una buona partita, sappiamo che le due squadre erano squadre difficili, ma siamo comunque contenti per l'esperienza, per il viaggio, sappiamo che non era facile ma abbiamo ancora una partita e vogliamo vincere come sempre. Bene, questa è stata una buona partita, credo. Bene, questa è stata una buona partita, credo.